difesa un cordo raga raga italiani italiani che vuoi piano 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 caffè io voto caffè allora un caid lo mettiamo un altro lo mettiamo qua l'altra cam la mettiamo la vita di fare la roteccio un subito prossimo volta perché perché se fai roteccio che si è obbligato a ottenere che perché siano ti prende nel site si ma se comunque se piano cat doppiamo in culo ragazza qualcuno può fare roteccio? faccio la roteccio? ho fatto di merda giochi top main dai? sono già in gym sono già in gym fuori gym fuori gym porta l'amad dove? fuori window sono in construction per aiutarti eh bridge o no? sound ragazzi perfetto si me è fatto fuori bridge ace construction morto fuori bridge in site in site eh ragazzi però planta no planta di fondo di fondo no uno site l'altro uno catwalk catwalk uno catwalk e l'altro non so dove sia catwalk eh no menti catwalk pin 3 pin 3 allo shield rosa ai transit site default ha messo rosa sound e che cazzo minca ma proprio cosa dove essere cristo si veramente non noi unbligo 1 2 1 6 100 Non ha senso questa cosa C'è un drone sui TOX C'è un drone Stanno in stock questi C'è fuori Avete info? No Window E anche Kett E hanno Kett Hanno tutto Ok Morto uno Kett Tratto window Morto window E' salito E' salito Morto e Kettralk Entrambi Entrambi Kettralk Stai sotto hai il C4 Stai sotto Non spottate con la camera di Valky Shhh Entrambi Kettralk Ecco l'hanno visto C'è Abbiamo una commissora Che vede se entrano In No Troppo presto Entrato Porta Anche l'altro Window 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 Forse non può entrare dal Può entrare solo dalla window Forse Non sa che sei qua Entrato? Insight Dimmiro server A sinistra Nel corrido io E sei te Tei buchi Stai 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 Comunque non posso dover Reinforzare garage Reinforzare site Fare buchi in site E fare anche rotation in site Sono solo uno Quindi hai dovuto fare una botola Che fa la botola in kitchen? Che fa la botola in kitchen? Che è andato sopra Io faccio le altre due E metto due in kitchen E spero scoppino Mi metto pure Mi metto pure Due in bar E una entrata main Ok Il blu l'ha messa L'ha messa Garage Bacca Iana Ok Vabbè auto scusa Ok bene Cosa Li botola stanno facendo? Non lo so Botola B Bomba B Ok kitchen Si Si Tunnel è rinf... com'è? Oh non lo so C'è nessuno per ora Mi hai rinforzato o no? Non lo so Non ho fatto niente io Uno due tre Non lo so Mi hai rinforzato Mi hai rinforzato Si si Rinforzato Rinforzato Main Yana Tunnel Rompono tunnel Uno main Si, tanto c'è la carta Blu morto C'era Gafkan Un altro blu Bato la blu Bato la blu Eh... Riusci a pissare lo testo Tengo red Ci provo eh È l'unica cosa che puoi fare Poi vai subito a tua destra Si è droppato? E' davanti Non era davanti In blu Ibana blu Porta blu è entrato box 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 Non c'è rotation blu C'è solo door Buono L'hai fatto volare Mi sono sentito un meccanico io Box 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 Becler Becler Chiave inglese Donna santa Ok No, quelli di formare uno che gli ha chiamato di andare alla box Esatto No, no, quelli della ferrari si è stato box box No, 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 scherzato No, no, era No, no, era No, no, raga Box box Dopo 5 secondi No, 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 box No, box No, box No, box No, box No, box Maratona 12 ore 9 ore tipo come aveva fatto su rainbow Su rocket No, grazie Mi esce fuori di testa D'altro che rinno Dopo 5 minuti Si è esploso O imploso dipende Però è più bello esplodere secondo me Metto le guai mo È più bello esplodere Però è più sim Sicuramente è più divertente implodere Perché? Beh, lo vuoi mettere Cioè, esplodere fai tutto sporco ovunque Poi fai un botto di casino E implodere Implodere È così silenzioso Però mi c'è in una piazza Magari Sparisce all'improvviso No, c'è anche try Adminando Aspetta, aspetta Ora Cosa è quel trincoestro? Ce n'è uno prima Ma se n'è Se n'è andato C'è Warden eh Che è andato in Master Per rompire no In Master Warden Entro Vado per fare buffo Grazie Witch Per il ride Quando trovai? Due minuti Allora non c'è nessuno in stock Entro io Ora c'è pure il Papa Tipo Mia Eh, vabbè Ok, io ho preso Sia bedroom che fosse Che free Bedroom Gym free Loggi non c'è rotation Uno in cat Dove t'acceso? Dove è finito questo? Il teammate è injured Può andare a rilassare se Non so dove è andato a finire questo Alta a sinistra a sinistra Bubi Dove è stato il teammate Mounted construction Forse è knockato Warden a sinistra Una catwalk Si è knockato C'era un altro Garage Salgo 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 da bridge Grazie mille Nooo Arrivato adesso Cattwalk Cattwalk Sempre Cattwalk 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 Ah, è stata in mezzo In mezzo Cattwalk Cattwalk Oh no Non mi piace No no Ce l'hai bianca, ce l'hai Lo clutch Sinistra Sinistra Destra Buono, brava Io non partirei Non ho ancora visto bianca perdere un clutch Sì, un 1v1 è vero, ovviamente Mi compro una bottiglia di acqua in piazza San Marco Nooo, zi, no, troppo, zi No, 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 no No, dai Non ti faccio Guarda, allora 30 mi sembra troppo Facciamo un caffè che è qui C'è Stai un po' sgravando che può C'è l'economia che può Ma mi fa ridere che poi invece ti fai gli aperitivi Tipo lo spritz è un euro Cioè il caffè intanto libera Sì, sì Sì Ragazzi 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 Sì Sono sotto Ok Cosa che ci manca? Non lo so Pensa, pensa Niente Le armi le abbiamo I proiettili pure Eeeh Quello morto Pure La tastiera io sotto le mani ce l'ho La tastiera, la tastiera e il mouse ce l'ho Ah? Poi? UPC, un monitor Le cuffie, le cuffie Ragazzi, prendete blu, prendete blu Prendete blu Ci sono in book a rotation, una forza appareggiata Alla, circola Ultima hai fatto retrofront Quanto? Allora, mezzo metro in blu Nooo Metà di vita Va bene Alzami in blu Grazie per la call Questo qua è vivo Perchè ti mette vivo? Morire Come che? Mocca mamma te E' la prima Mi tenete questo drone in lunge? E' la, ce l'ho, ci sono, ci sono Se ne avevano in garage Siamo in col C'è Sì Sì, sì, uno in garage Siamo in col Guardi sono del film C'è sempre qualcuno per farsi Sempre quel drone tenete C'è sempre Sì 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 Direttore i tavolini Cash cash Non so Tavolini Ok Tavolini, non in fondo Quella cerci non cash Zio che cazzo è cash Dio E' fatto sbagliato E' appunto cash, tavolini E' fatto di giuro Cioè Primo round Secondo round Il quarto E' ora il quinto Avete rotto i coglioni E' il sexto Lo sai tu? Ma il quarto L'ha lasciato bianca Non dire stronzate No, allora quello di prima Guarda me lo vuole anche rubare Il terzo Alla primo, secondo, terzo e quinto A parte quello dico Poi beh Dai a Roma, dai Un Adam raga Un Adam Saluto me lo No, io non lo saluto più Mi in E' in gym, in gym, in gym Fai i buchi Fai i buchi sul muro veloce Che in gym E' che nel corridoio adesso P4 E' noto in master Porca troia Mi ha laggato pure Adotto l'abilità vigile Pica corridoio E' in mezzo al corridoio Vai Posso avvicinarsi ai buchi Morti Mi struppo Brava Bube Ho fatto un flip che neanche... Shaiko Neanche Shaiko? Mi stai mirando molto Ricordate che sono il miglior buff della relazione Hai ragione Z scusami E' sbucato da red M'hanno stompato ace raga E' su scuole main Non muore Non muore M'hanno presente stompato ace Sì Dov'è? 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 E' uno era in A Ho già il drone Ragazzi faccio schifo Sì veramente Sei uno smirone amore Ma baffanculo Portal Crash construction Quanto sta laggando raga? Non riuscite neanche a brecciare C'è un raid Hai ragione Z È proprio inutile sai Eh lo so lo so Basta ragazzi dire cosa è vera Già Quando è che vai a solo che ti lega? No Wait bro wait Non mi lascerei più uno v2 Debra Ce l'ho più Dice un raid Un raid Un raid Quando dico che C'è qualcosa che mi da Mi sparo Concordo Vai uomo Lui ho detto aspettare un secondo Non è che ora non fa più niente Uno è su ping Oh mio dio No l'ha guardato per 10 secondi Che bidone Poi a sinistra La camera è rotta? 20 19 18 17 16 No raga non ce la faccio 13 12 11 10 Inger Fanculo tu e le tue call di merda Non era io che cazzo era? Fanculo tu e le tue call di merda No stava solo strisciando Ah si era disteso Indur Ragazzi io non ce l'ho più possibile Io do le dimissioni Oh mia mamma benedetta Com'è che te l'ho fatto? Venghi e sento da zoo Per frentino Però vabbè Il drone è fatto Però non dovrei che andare a fare io la botola Perché mi sghamano Captain Eh è una cosa per dire Mi chiamano camera Mi chiamano Valkyrie Abbiamo un warden inutile Io devo fare pochi inside No tu sei inutile Quindi potresti Io devo fare pochi inside Perché c'è smocca la mitraglietta Non c'è niente Sei la persona più unibile del mondo Se no non c'è niente Ma smocca è Cioè smocca può tenere la mitraglietta In che senso? Nel senso proprio che la lingua italiana è finlandese Solo perchè si sa puoi tenere la mitraglietta Sound ragazzi Sound Entrano da stock Adam pure C'è stock Stock è sotto cash E a me me ne frega un cazzo No nel senso Cash Vabbè amore che cazzo non sai niente Quella 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 la Guarda la Vedi la? E ping Chi sei? Smoke? Si Qua Sound? Va bene Uno distrutto Bottle 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 Sound ragazzi In blu ragazzi Dorano tunnel Si si aspetta Aspetta In lounge ancora Iana Ok morto Arsenal Arsenal Uno tunnel Tunnel Brava S'è droppata Mi ha laggato Sound? Apre il def Planta dietro il box L'altro in main Mi ha ammazzato quello in main Oppure Ah si parte dietro il box Quello grigio Quello grigio verticale Raga mi ha laggato come una scimmia Quando si è droppata dalla botola Che palle L'ho vista L'ho vista A tipo 3 frame Che scendeva Che palle Perché ogni volta è vero Moriamo da quello Ogni volta noi ce lo prendono E ci distruggono Non giochiamo a zammeli Infatti Marco guarda Può essere pure tuo nonno Non la prendiamo mai Cat Cristo Sì ma quattro volte Me l'hai detto Puoi bruciare già Anno alibi Anno alibi Stocco morto Vado per me C'è il trattato Sono in stock Però non stock C'è avanti Uno lunge C'è a zammeli sotto C'è a zammeli sotto Questa non c'è ambicciata Rompi la botola per la porta Uno è garage Uno è garage Ma bottom o top? Bottom E uno anche cattolo Aspetta C'è dei buchi sopra Sì Bubi ha il defufer Non morire E a zammeli red 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 Eh bubiozzo o i buchi Perché c'è uno sopra Lo so Lo so Lo so Lo so Dove se riesco a ammazzare Quello Sto c'è anche insight Hai dei droni? Non so dove Morto che è a te lesion No c'era pure No a zammeli no A zammeli red Sto c'è anche era insight Non so dove Forse in cash Sì Dietro lo scudo Potete rompere lo scudo Dietro lo scudo è pulito Injurta tanka inside Ping rosso Lo resta Alivi lo resta Morto Rimaneta senza E anche là l'ultimo L'ultimo là Sicurato Buono Vai così Nice 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 Non possiamo farlo ragazzi Come on Che coppia Che coppia Che scoppia No perché dobbiamo scoppiare Cosa c'è Fai scoppiare in gioco Ok Ok No no Che pop Sei fatto una kill Mi so preso Che Bravo Vedi che se prendiamo che è vinta Che scoppia Non è castor Non gli puoi dire Ah babbi dipende castor Che tre ore e mezza Metti il coso qua In forza qua No No Lo dovete dire infatti Quindi Voi lo prendevate voi E poi niente No aspetta Ma loro sono in quattro Ma che fa quattro ore civile Gesù Che è successo? Però non buttiamo sta cosa che ci ha dato per cortesia Appunto infatti quindi vediamo Ringraziamo e continuiamo Grazie a mio signore per il crash di ora Sì veramente anche me ha lagato un po' Io spero di non arrivare al crash se siamo in vantaggio numerico sinceramente Ho detto il crash Crash perché anche a me adesso crash Fai i buchi alti qua a malla se riesci a clean Dai chat Grav in chat E poi mira i buchi bassi in là Oh raga dai Oh no Eh sì servono Veloce che ti sparano da la finestra Può diventare un digger Bene vai sotto i buchi Hai il filo spinato? Ti avanza Mi so su scala main Orca tro Dal buco dei droni Vabbè è normale Ma è normale Ma è normale Mettilo qua Window gym Ma serve la Se no non lo becca Cioè sennò ti tieni la Morto 1 Window gym Però io sono lucky You're dead Sennò Qual è la risposta Soldata Hanno bricciato Dietro lo shield Bridge main Osa dietro il bridge Dietro lo shield Vai dietro quel mira Bianca Votola Hanno fatto come garage Audio Sound zitti Zitti Ma non è bianca Drone che Che Site Extra bianca Merda In Sì sì raga Eh raga Porco due l'audio Guarda la construction eh E logistica La sto dando io Una fuori bridge Ok Bene arriva uno da construction Ok Ha rappellato bridge Sì È andato sul tetto È andato sul tetto È andato È andato Sì 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 Sono andato inside io Logistica dove era? Dov'è? In su Logistica Dov'è? No ho detto logistica com'è Era qui eh Votola aperta Bi finestra Che è il gym Fa che morto? Uno construction C'è Osa in gym Ho messo È team master Construction Osa C'è boh C'è rotation logistica Got Russian Sì Sound È sul letto Va bene GG Dai che cazzo No questa non doveva essere persa Però che taglio Dai Eravamo pure in quattro Ho detto che non volevo arrivare a un clutch Con un vantaggio numerico iniziale Comunque mi sa che Zanni è italiano Sì perché scrive Gn No non è per quello Mi potrei trastarmela quando ci ho detto che si era Vedi Zanni è italiano È un toxic italiano Ma è pure street sniper Probabile Molto probabile Scimioni 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 Significa che so che siamo italiani Infatti è un bot Non ha mai combinato nulla Muttami in chat 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 Non posso zio Sì vai su messi scoreboard della muta È uscito Stress No è bugato non posso Non me lo fa cliccare È uscito è uscito Muttami in chat